musica 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 domani io ah e con chi viene eh chi ti porta i miei soldi con lui solo si ah e domani dove allo catamarano si 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 anche io pagare lui per il bmx5 e allora domani mattina alle 8 e mezza lo vado a prendere io si si noi sono 7 io ho 8 mille c'è ah va bene ok perchè il problema Libia si si sta e sa dopodomani il camera esce tutto fuori e dopodomani ho capito va bene ma per domani c'è 8 mille lui va bene va bene 8 mille cavità salvatore e i 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